7.050 militari impegnati nell'operazione Strade Sicure per vigilare sui cosiddetti siti ed obiettivi sensibili a Treviso, pronti a continuare la loro attività fino a dicembre 2019. La Prefettura sta infatti perfezionando il provvedimento legislativo per prorogare i servizi di rafforzamento di controllo del territorio con uomini dell'esercito. L'attività è iniziata la scorsa estate, in luglio, a discorso consensi tra i cittadini che hanno apprezzato il presidio dei militari nelle aree considerate più delicate in città. Ebbene, ora questa presenza continuerà ad esserci. Nello specifico verranno mantenute le 20 unità dell'esercito già assegnate dal Ministero dell'Interno, che continueranno ad affiancare e a collaborare con le forze dell'ordine nei servizi di controllo e vigilanza del territorio.